Ben ritrovati sul canale Il Vino Alcalice, il vino con semplicità ma nel modo giusto. Sono Gigi, sono un sommelier, oggi è capodanno e in questo video parleremo del brindisi, per fare bella figura ma senza esagerare. A cavallo tra la fine di un anno e l'inizio di quello successivo è immancabile il brindisi, così come è immancabile in altre occasioni nelle quali si ha qualcosa da festeggiare. Il brindisi ha origini antichissime, lo troviamo tra gli assiro babilonesi, nell'antico Egitto alle tavole dei faraoni, tra gli antichi greci e poi tra i romani che di fatto bevevano in onore degli dèi e dei defunti. Ecco perché si alzano al cielo i calici, quando si brinda il calice si alza perché abbiamo la memoria di quello che si faceva nell'antica Roma rispetto appunto al brindisi, ai defunti e agli dèi. Il brindisi è un rito che raccoglie assieme una commissione di culture. Dicevamo che nasce dagli assiro babilonesi, passando per i faraoni e poi per i greci, per poi venire ripreso dai romani. Il termine brindisi deriva dal tedesco brindirs, che significa io porto a te. Il cincin, che invece accompagna il brindisi, nasce dal cinese e significa prego prego. Questa modalità per brindare è arrivata in Europa dai marinai che arrivavano dalle zone orientali. Al posto di cincin possiamo trovare anche il latino prosit, che significa che faccia bene, che sia a favore. Ma vediamo assieme un minimo di galateo per quanto riguarda il brindisi. Allora, innanzitutto, in occasione del brindisi, non va mai richiamata l'attenzione battendo una posata o qualcos'altro sul bicchiere. Non è una cosa elegante da fare. Poi, i calici, nel momento in cui si va a brindare, non devono mai tintinnare. Vanno portati vicini, ma non si devono mai toccare. Nel brindare, piuttosto che usare il classico cincin, è meglio utilizzare un augurale a noi o alla salute. Poi, a stappare la bottiglia per il brindisi, deve essere sempre il padrone di casa. E gli ospiti è buona norma che si mettano attorno al padrone di casa in piedi. La stappatura, poi, della bottiglia, solo per quanto riguarda capodanno o al limite, quando si vincono i gran premi, va fatta con il botto. Nelle altre occasioni, la stappatura va fatta come abbiamo spiegato in questo nostro video, ancora mesi fa. Bene, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Alla salute, o meglio, a noi!